Così, noi così stiamo. Siamo partiti? Eh sì. Siamo partiti già? La domanda è... Buon viaggio. Ma non so, già non so che dire. Codice nero è... Codice nero per me sono tante cose. Codice nero. Quando penso a questa parola, all'inizio mi viene sicuramente un po' d'ansia. Chi apre una domanda inquietante, che facevano anche un po' in televisione, mi faccio ammazzare da un medico umano e simpatico? O mi faccio salvare da un pezzo di merda? È un termine che ha a che vedere con la sanità. Allora, quindi la cosa è codice nero. Codice. Codice nero. Codice nero siamo noi. Codice nero è lui, soprattutto. Codice nero poi magari possa andare dal non colore a un colore, quindi poi magari diventare codice viola, codice blu, codice rosso. Codice nero. Ma la prima cosa che mi hanno detto è una cosa tipo... non so, spionaggio. Codice nero è codice nero. non so, poi tocca a me, ma chi, 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 chi c'è? Eh, tocca a me, no? Tocca a me. Tocca a me. Codice, 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 codice blu, codice, codice rosso. No, codice rosso forse un po' meno, però forse più codice viola, codice blu, codice fucsia, codice turchino. Ecco, vabbè, adesso tocca a me. Non ho voglia di fare codice nero, quindi secondo me adesso tocca a me.